Arrivate martedì 5 marzo a Roma tramite corridoi umanitari, le prime 97 persone evacuate dai campi di detenzione in Libia. Tra loro ci sono rifugiati e fragili dal punto di vista sanitario provenienti da diversi paesi, dall'Eritrea a Etiopia fino alla Palestina e alla Siria. L'arrivo in Italia dei rifugiati tramite i corridori umanitari è stato reso possibile da un protocollo firmato a dicembre 2023 dal Ministero dell'Interno e quello degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Insieme tra le altre all'Agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella gestione dei rifugiati in Italia.